Si ha potenziato il personale dei punti nascita di Ricata e Canicattì e l'appello lanciato dal Cimo a Grigento con una nota firma del segretario aziendale Rosetta Vaccaro e rivolta ai vertici dell'ASPE all'assessorato alla salute. Il sindacato dei medici sottolinea che nonostante le reiterate note del mese di marzo il punto nascita di Ricata è stato aperto senza adeguato personale assicurando approssimativamente ad oggi le guardie mediche con personale sottratto al bisogno da altre unità operative di ostetricia e di pediatria. Ciò è stato organizzato prevalentemente con il personale del presidio di Canicattì, il regime di prestazione aggiuntiva con uno dipendio economico non indifferente come si può evincere dalle delibere di liquidazioni e con aggravio di stress personale. Il ricorso alle prestazioni aggiuntive si utilizza secondo la normativa solo il regime di urgenza e non per la semplice gestione ordinaria di un reparto dal Cimo aggiungono. Inoltre il punto nascita di Canicattì è stato classificato di primo livello e per esso è previsto un adeguamento strutturale, funzionale, tecnologico e in particolare di risorse umane. Bisogna sottolineare che a tutt'oggi nonostante vari solleciti alla direzione strategica aziendale nulla è stato fatto. Dal sindacato sottolineano ancora, dall'unità operativa complessa di ostetricia di Canicattì la media annua delle nascite di 700 individui. Il punto nascita attualmente è sottorganico e la tipologia dei pazienti richiede la presenza di specialisti a 24 ore su 24 e più precisamente di un pediatra e di un ginecologo. Inoltre c'è l'esiguo numero di dirigenti in organico con tali specialità che debbono inoltre sopperire ai turni in prestazioni aggiuntive allicata. Da qui la richiesta di adeguare le dotazioni organiche sia allicata che a Canicattì per non depauperare le già esigue risorse in un reparto funzionante a regime con conseguente abbassamento dei livelli di sicurezza, della qualità delle prestazioni e aumentando il rischio clinico di entrambi i punti nascita.